Dopo l'annunciato fallimento della manifestazione di interesse, adesso la Regione procede immediatamente con il bando. E questa è l'opinione del Comitato Civico, ora basta, quello fondato da Ignazio Messina. È necessario fare il bando di affidamento delle terme. È stato progettato, lo abbiamo fatto con degli esperti tecnici, abbiamo studiato la questione sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista tecnico. Giuridicamente dobbiamo dire che c'erano i presupposti, ma i presupposti questo per farlo alla Regione. Quando già nel 2012 fu effettuato un primo bando con il medesimo assessore che a tutt'oggi è presente e si interessa purtroppo della vicenda. Devo dire purtroppo perché dopo tanti anni noi avremmo sperato di vedere le nostre terme riaperte. Ecco, secondo Alfredo Ambrosetti, perché sul bando le cose andranno diversamente che con la manifestazione di interesse. Anzitutto perché con la manifestazione di interesse gli imprenditori interessati si mostrano. Non si capisce perché dovrebbero mostrarsi e dovrebbero soprattutto dichiarare a che cosa sono interessati, a che titolo e perché. Quindi diciamo aprirsi a un confronto che è addirittura preventivo rispetto al bando di gara. Secondo poi, l'avviso esplorativo non è che presuppone che gli inviti alla gara sono solo di coloro i quali hanno manifestato interesse all'avviso. Perché poi il bando di gara è aperto a tutti comunque. Quindi è questo quello che noi dicevamo era essenziale per evitare di perdere tre mesi di tempo e andare direttamente al bando. che peraltro avevamo scritto insieme all'associazione Ora Basta, anche con un gruppo di professionisti, nel tavolo tecnico. E che abbiamo pubblicato liberamente, abbiamo dato liberamente a tutti. Per cui la regione, se non sapeva che pesci prendere rispetto alle cose da mandare a gara, lì erano scritte tutte. La preoccupazione che devo dire è stata già evidenziata è il fatto che c'è qualcuno che ha detto di essere interessato, ma non lo ha scritto. Questo per me è preoccupante perché l'avviso esplorativo è un atto formale, è un provvedimento amministrativo formale, ma lì si parte per capire chi sono i soggetti interessati. Mentre qui c'è stato un interesse di qualcuno ma non sappiamo di chi, non sappiamo rispetto a che cosa, non sappiamo se rispetto a tutto o rispetto a una parte del patrimonio. Quindi tutto resta estremamente nebuloso, estremamente confuso e devo dire non siamo contenti di avere avuto ragione. Se fossi andati già direttamente al bando, che come avrete letto conteneva una serie di parametri, di requisiti molto precisi, quindi si sarebbe sicuramente avuto un effetto diverso anche per l'ammortamento, cioè per il periodo di moratoria rispetto al canone che era stato individuato, probabilmente oggi le cose sarebbero diverse. Per Ambrosetti è impossibile immaginare il ricorso di un accordo di programma quadro pubblico privato e spiega il perché. Ma se la Regione con una legge ha stabilito che le aziende termali, che le terme di Sciacca e 10 reale non sono strategiche, come si fa un accordo di programma quadro, cioè come si fa un accordo tra pubblico e privato per aree non ritenute strategiche? La battaglia deve continuare, conclude Caterina Sant'Angelo, la quale invita il Comitato Civico Patrimonio Termale a rendersi conto che le raccolte di firme sono inutili. Le firme non servono, ma non perché si credono, sono belle attività, belle manifestazioni, non hanno portato a nulla. Se abbiamo una programmazione, abbiamo visto queste cose sperimentate, non hanno detto niente, non hanno portato niente. Allora, facciamo un passo avanti. Ormai siamo nel mondo della globalizzazione, dobbiamo saper camminare in questo mondo. Il contratto che fu stipulato tra la Regione ed il Comune di Sciacca prevedeva dei tasselli precisi, ad abberamento dei quali sarebbe stato e divenuto esecutivo quel contratto. È ovvio che se il Comune non ha adempiuto a quegli oneri, ovvero se la Regione non ha chiesto il regolare adempimento di quegli oneri, questo contratto è Tancum Non Esset, non c'è. Si riferisce alla famosa cessione dei beni di Baccei quando venne qui. Sì, 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 ci hanno detto tutti, ci stiamo lavorando, vengono fuori di punto in bianco una serie di problematiche che non esistono. Perché queste problematiche, se avete fatto un bando nel 2012, erano presenti già allora. Non mi pare verosimile che tu me li venga a ripetere a distanza di sei anni, sette anni, dieci anni. Non è possibile rimanere fermi. Non si preoczie a voi.